La Polizia di Salerno, suddelega della Procura della Repubblica e direzione distrettuale antimafia, ha eseguito 13 misure cautelari, di cui 11 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, a carico di pregiudicati appartenenti ad un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti nella zona dell'agronocerino sarnese. Nel blitz svolto dalla squadra mobile di Salerno hanno acciuffato anche un latitante ricercato per omicidio. I militari inoltre hanno eseguito 4 fermi disposti dal PM con le accuse di tentata e estorsione aggravata ai danni di un imprenditore e detenzione illegale di armi da fuoco. Inoltre nelle perquisizioni domiciliari sono state rinvenute diverse armi illecitamente detenute da uno dei fermati. Tutte le operazioni hanno un lato di importanza. Questa operazione si contraddistingue innanzitutto per aver confitto delle consorterie criminali che si stavano radicando sul territorio. Hanno consentito di catturare un latitante per cui pendeva un ordine di esecuzione alla pena di anni 14. Quindi è comunque un processo minorile, pertanto con tutte le diminuenti di quel tipo di processo. E pertanto per un soggetto che poteva reiterare la medesima condotta criminosa. E' importante perché si sono disvelate delle connivenze di appartenenti alle forze dell'ordine che sicuramente fanno male a noi perché sono persone con cui collaboriamo e fanno male alle stesse istituzioni di appartenenza perché scoprire dei soggetti non fedeli è sempre una brutta scoperta. Sono attratto origine da una perquisizione ed arresto dei danni di un soggetto appartenente alla stessa consorteria criminale arrestato anche oggi per altri reati nell'ordinanza tale Viscardi Ernesto che durante la perquisizione gli sono state diminute diverse armi e diversa sostanza stupefacente. Un approfondimento del personaggio e le attività tecniche successive hanno scoperto che questa detenzione non era una detenzione diciamo personale ma era una detenzione di un'organizzazione criminale che aveva una ramificazione e una diversità di reati in itinere molto significativi e preoccupanti per il territorio. Il quadro è preoccupante lo testimonia il fatto dell'episodio da cui è partita l'indagine di quello che come ha detto il procuratore aggiunto poteva essere un omicidio tranquillamente dal ritrovamento delle armi che denotano la potenzialità criminale di questi soggetti e di queste organizzazioni criminali che sono pronte a qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di reato pur di conseguire i loro illeciti profitti. Una situazione del mercato che non è approfondita, non è chiarita? Le indagini sono costantemente in corso. Noi monitoriamo tutti i focolai di attenzione da parte della polizia giudiziaria dove si possono sviluppare determinate attività criminali. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori